Ciao a tutti ragazzi, sono MrFioC97 e benvenuti per questo nuovo video. Qui con me, ad aiutarmi con questo commentary, c'è MrFioC97, anch'io ho un canale su YouTube che poi linkerò in descrizione e anche nel video. Vi consiglio di andare a guardarlo, non fa molti video adesso, ne ha fatto uno di Mario e uno dello Schalke che ha avanzato l'Inter, già ci sono un po' arrabbiato. Comunque, quanti iscritti hai adesso? Boh, non mi ricordo. Beh, comunque ne ha pochissimi, vi consiglio di andare a iscriverlo e iscrivetevi anche al mio e se questo video vi piace, mettete un mi piace, sia al mio che al suo. Vabbè, adesso iniziamo un attimo a parlare della partita, è una partita di match a squadre, giocata da un mio amico, Shadow Panda, che non è MrFioC97, però vabbè, è un mio amico Shadow Panda e allora usa il Galiz Silenziato con i bonus, Fantasma Pro, gioco di prestigio Pro e Hacker Pro mi pare, sì, sì, dovrebbe essere quelli lì. Comunque, adesso do un po' la parola a Matteo che parla un po' del suo canale. Va bene, allora sul mio canale è sempre il MrTeo97 con quattro O. Con quattro O, sì. C'è un video di Mario Bros, dove faccio la superabilità e l'altro invece dove un video dell'Inter, la partita dell'Inter contro lo Schalke, in cui ha perso 5-2. Che qua già spaccare il compito quando l'ho visto, ho messo infatti non mi piace. Vabbè, comunque ha questi due video qua, poi ne metterà anche altri quando magari avrà anche un po' più di iscritti, quindi iscrivetevi. Adesso vabbè, ho completo il contratto, prendo l'Erospia, Shadow Panda. Però, vabbè, questa partita qua mi pare che dura, aspettate, matematica, un attimo. Nanno 5-6 minuti. 6 minuti dura sta partita e chiama come ricopesto uccisioni l'Erospia, supporto aereo, quello da 9 e poi i cani e faranno tantissime uccisioni, anche perché in questa mappa il supporto aereo distrugge tutto, è devasto proprio. Vabbè, adesso cosa possiamo dire ancora? Non si è mossa da lì? No, adesso sta un po' camperando questo mio amico, poi via gatto. No, vabbè, c'è il mio gatto, scusate. Adesso cosa possiamo dire? Colpo in testa. Continua a camperare, continua a prendere colpi in testa, ha ceccato. Adesso spero se ne vada un po' via, altrimenti no, sta partita. Poi mi hanno detto che c'era anche una... Mi hanno detto che il supporto continuava a fare triple, non glielo contava come triple, però sembravano abbastanza triple, dopo vedremo nel video. Comunque, adesso andiamo avanti e mi sembra che tra poco prenderai il supporto aereo alla prossima uccisione, mi pare. Vediamo subito. Vediamo subito? Sì, esatto. E dopo prenderai anche i cani. Aspetta a mandare il supporto aereo finché non prendi i cani, per essere sicuro che non venga morto, che non venga ammazzato. Usa nel supporto aereo, lancia i cani, e vabbè. Lancia, chiama. Chiama i cani, vabbè. Poi volevo consigliarvi anche il canale di un mio amico, che si chiama Cartman Ouija, Ouija, Cartman Ouija, che fa alcuni video, mi sembra che ne ha 17 adesso, non fa video di code, ma fa video di altri giochi, di cui adesso non mi ricordo mai il nome. Comunque, un mio amico lo conosco su PlayStation Network, e si chiama appunto Cartman Ouija, anche su PlayStation Network, che vuole aggiungerlo. Poi linkerò anche il suo canale nel video, in descrizione. Vabbè, per chi volesse aggiungermi a me su PlayStation Network, mi chiamo Fiocco97, tutto minuscolo, come nel canale, però senza Mr., senza MR. Vabbè, qua vediamo come tripla, come sta molestando con il supporto aereo. Ancora tripla, strage. Strano però che non gliele conta, perché qua, vedi, 150 dovrebbe essere già una bella tripla, però. Adesso mi sembra che finisce il supporto aereo, perché glielo abbattono, mi pare. O forse finisce addirittura normalmente. Vabbè, sì, infatti, glielo abbattuto. Vabbè, questo commento di qua non sarà più il massimo, perché non aveva neanche tante cose da dire. Adesso ha rubato un MPL da terra e sta andando in giro un po' a molestare un po' di gente. Ma se non ha preso neanche una fine adesso. Vabbè, un attimo, per sapere che non la prenda. L'MPL con, dovrebbe essere la faccina quella lì. Forse no, solamente un cerchio con puntino in mezzo. La faccina? Eh, nel mirino c'è anche la faccina. Vabbè, parla un po' come giochi te, Matt, sulla... Teo 97 sulla Playstation. Quando, tipo, dici ai... Quando gioco con Mr.Piocco97 sul online. Non sono molto esperto come lui, però... Non è che sono molto esperto, eh. Perché facciamo un po' schifo. Vabbè, prima di questo video qua ho caricato il commentario live numero uno. Poi ne farò anche altri. Ehm... Vabbè, è andato abbastanza bene, eh. Pur era il quarto tentativo. Perché a volte sbagliavo, perdevo la partita. Pur sbagliavo il commentary. Mi impappinavo un po' troppo. Ehm... Da adesso andato tutto bene. Del tutto, anche se era la mappa, era Kao l'1. Una mappa che io odio. Qua prende, mi pare, il penultimo colpo in testa. E dopo fa anche l'uccisione della vittoria adesso. 7200 sono. Ehm... Vabbè. Mi pare... Sì, questa partita qua finisce 51. Ehm... Vabbè, ringrazio subito, prima che finisca la partita, Mr.Teo97. Grazie, grazie. Che è stato qua a commentare con me. Ricordo ancora di iscriversi al suo canale. E mettere mi piace sui video, se vi piacciono. E iscrivervi anche al mio e mettere un mi piace. Se vi piacciono i miei video e se volete anche altri video. Commentate. Grazie per la visione. Primo Shadow Panda con 51 uccisioni e una morte. Ratio di 51-0-0. Buona partita. Gli avversari erano abbastanza nabbi. Comunque, vabbè. Ehm... Niente. Finito. Ciao, ciao. Arrivederci.